Dopo un po' che vanno in camera Ok, niente, sto soltanto preannunciando dopo una pubblicità che ci sarà questo ingresso di un altro giornalista che parlerà qui con noi Quindi, proseguiamo No, partire il discorso Eder dovrebbe essere La pronuncia portugheria dovrebbe essere Però me, tu, è importantissimo questo Però, secondo me, giocando diversi anni Dobbiamo ricordare questo Perché comunque gli sponsor sono una grande cosa Soprattutto nello sport e nel calcio Grazie a loro, di conseguenza Cristiano Ronaldo è uno sponsor vivente Quindi come fai a soldi a lui, stai bine Noi faci vedea l'acqua Inca sunt rasuri pe al locuri, dar doar pe al locuri Da, mai vei și mai vei Trebuie să-mi cauti un coleg de efort Poate am probleme și mă mai stimulează Și ce coleg poate fi mai bun decât soare Așa mă mai incaltești un poțin Grazie soare, 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 capul de se fla Abbrumatri, hai să facem tinte energie E se facem, ma non c'è un po' Asta abbiamo anche noi trupuri, che sei E se non mi interro, ma non c'è un po' De ce am venuto, e di ce soare Mi sono capul di calcio Da, ci ho terminato Un, doi, trefa, un, doi, trefa, un, doi, trefa, No, 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 no. No, 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 no.